Qualcosa alla fine, non ci siamo nulla ad anticipare. La perizia è molto dettagliata, molto completa? È un bel tono, è un bel tono. Ci sarà tempo. Quali sono le osservazioni o quello che verrà sollevato rispetto a quanto emerge nella perizia? Ci sono parti molto chiare, come rispetto all'usura e alla fatica del filo della fine traente? Io le devo rispondere con uno comment, ma lei ha fatto un'osservazione, che è un'osservazione puntuale. Abbiamo tre giorni per analizzare tutto quello che i miei colleghi, i periti del GIPA hanno fatto. Grazie.